Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Palermo dove la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro di beni da 28 milioni di euro nei confronti di un imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta. Vediamo il servizio. Beni per 28 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo a un imprenditore attivo nel settore del trasporto di merci su strada. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura. Al centro dell'inchiesta indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria avviata a seguito dell'operazione denominata Vanish Vat che nel 2021 aveva fatto scattare ordinanze cautelari nei confronti di diversi indagati. Secondo la Procura, gli accertamenti delle fiamme gialle avrebbero fatto emergere un'associazione per delinquere che avrebbe emesso fatture false per un importo di oltre 16 milioni di euro e avrebbe omesso versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali in debita compensazione e bancarotta fraudolenta. Sarebbero state create, e la tesi dell'accusa, società di comodo utili al gruppo imprenditoriale e sarebbe stato abbattuto illecitamente il reddito imponibile delle due imprese realmente operative riconducibili all'imprenditore. Il sistema, ha contestato la Procura di Palermo, avrebbe portato al fallimento di una delle due società che aveva accumulato debiti verso l'erario di oltre 22 milioni di euro. Sono stati sequestrati otto immobili a Palermo e Ficarazzi, sei società con sede nelle province di Palermo e Catania, un conto corrente, un motociclo e un autoveicolo per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro. Esplodono colpi di pistola in strada e vengono incastrati dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Il fatto è avvenuto a Catania e quattro persone sono state arrestate dalla Polizia. Su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica, la Polizia di Catania ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura custodiale emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di quattro persone gravemente indiziate a vario titolo e con differenti profili di responsabilità dei reati di detenzione in concorso di arma da fuoco clandestina con silenziatore inserito, ricettazione, esplosione in luogo abitato di colpi d'arma da fuoco e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. L'attività d'indagine è scaturita dalla segnalazione effettuata tramite il numero unico di emergenza da un cittadino rimasto anonimo il quale, preoccupato, segnalava la presenza di quattro soggetti che esplodevano diversi colpi di arma da fuoco. Il tempestivo intervento della squadra mobile sul luogo oggetto della segnalazione ha consentito di identificare tre soggetti e di procedere a una mirata ispezione dell'area di interesse, a esito della quale, tra la vegetazione, vicino a un muretto, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica con matricola brasa, con il caricatore, priva di cartucce e con il silenziatore inserito. Inoltre, a terra, a pochi metri da dove erano stati bloccati i tre soggetti, sono stati recuperati sei bossoli di pistola esplosi. I sistemi di sorveglianza installati in prossimità dei luoghi hanno permesso di ricostruire i fatti con gli indagati che, in effetti, avrebbero sparato più colpi, passandosi l'arma tra loro. Peraltro, l'azione investigativa ha permesso, in una fase successiva, di identificare il quarto soggetto già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale nel territorio di Acireale, il quale sarebbe stato presente al momento dell'esplosione dei colpi, ma che sarebbe riuscito a scappare qualche istante prima dell'arrivo degli operatori della squadra mobile. L'identificazione del quarto soggetto è stata corroborata, oltre che dalle videoriprese, anche dal rinvenimento del suo telefono cellulare lasciato sul luogo dell'evento nelle concitate fasi della fuga. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero titolare del relativo fascicolo di indagine, ha disposto nei confronti di tutti gli indagati l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'emergenza siccità in Sicilia ha completato circa il 50% delle opere previste nel piano da 20 milioni per contrastare la crisi idrica nell'isola. Avanza lo stato di realizzazione del piano da 20 milioni di euro per l'emergenza idrica in Sicilia. Circa il 50% delle opere previste è stato portato a termine o è già in corso di ultimazione. Nello specifico il 17,31% degli interventi è stato completato, il 30,77% è in corso, per un altro 17,31% si stanno completando le procedure di affidamento, mentre il 26,92% è in fase di approvazione e presto sarà effettuata la consegna dei lavori. Questo ha permesso a meno di un mese dall'approvazione del piano da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il recupero in termini di litri al secondo già del 50% dell'apporto aggiuntivo previsto dal piano. Un ulteriore 20% si aggiungerà con le opere completate entro la fine di luglio. I dati sono emersi durante la riunione convocata a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione siciliana Renato Schifani con tutti i rappresentanti dei soggetti attuatori, società di gestione, ati e comuni e i componenti della cabina di regia per l'emergenza siccità presieduta dal governatore e coordinata dal dirigente generale della protezione civile della regione siciliana Salvo Cocina. Abbiamo messo in campo ingenti risorse sia nazionali sia regionali, ha dichiarato Schifani. Adesso tocca a voi procedere concretamente e speditamente con la realizzazione delle opere. Auspichiamo che tra tutti i soggetti coinvolti ci sia un clima di collaborazione e il nostro stesso spirito di abnegazione. Facciamo ogni giorno tutto quanto il nostro potere, ha aggiunto il governatore, per risolvere questa emergenza sia con risposte immediate alle criticità più urgenti sia con soluzioni più strutturali. A breve, con l'approvazione da parte del CIPES degli accordi con le regioni per i fondi FSC, potremo disporre dei 90 milioni che abbiamo previsto per la riattivazione dei dissalatori fissi di Gela, Trapani e Porto Empedocle. Chiedo a tutti il massimo della mobilitazione e un proficuo spirito di squadra. È una scommessa che dobbiamo vincere a livello nazionale, ha concluso il presidente della regione, Renato Schifani. Sopralluogo del ministro per la protezione civile Nello Musumeci a Stromboli. Siamo pronti a intervenire, ha dichiarato l'ex governatore siciliano, ma al momento questa ipotesi non c'è. Vediamo il servizio. Lo stato di mobilitazione è stato firmato per consentire al Dipartimento di supportare l'azione della regione siciliana e del Comune in una fase di emergenza, mettendo a disposizione tutte le risorse umane e strumentali in un momento delicato che le strutture locali non potrebbero affrontare da sole. Tutto questo nell'ipotesi della necessità di dover intervenire. In questo momento l'ipotesi non esiste, ma bisogna essere cauti, attenti e pronti. Lo ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, recatosi a Stromboli per presiedere un vertice convocato al centro operativo avanzato sull'eruzione del vulcano dell'Isola delle Eolie. Abbiamo sorvolato la sciara del fuoco, ha aggiunto Musumeci, e abbiamo notato come questa attività, che è presente dal 23 giugno, seppure in fase di attenuazione, ancora continua. Abbiamo l'obbligo di stare sempre in guardia, di immaginare sempre lo scenario peggiore e augurarci quello migliore. I divieti istituiti a Stromboli, ha sottolineato il ministro, non sono frutto di un capriccio, ma vengono adottati perché siamo in una fase di allerta rossa e non possiamo non tenere conto della necessità di salvaguardare la sicurezza di tutti. Stiamo mantenendo un profilo basso per non danneggiare i turisti, questa è un'isola meravigliosa che va vissuta, ma tutto quello che stiamo facendo è doveroso, saggio e irrinunciabile. È chiaro, se il fenomeno nei prossimi giorni dovesse attenuarsi, alcune misure potrebbero essere revocate. Però è necessario innanzitutto attivare il protocollo perché l'obiettivo prioritario è quello di salvaguardare l'incolumità delle persone, ha concluso il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Parliamo adesso del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Dalla CIPES è arrivato l'ok all'accordo con la Sicilia, ovviamente soddisfatto il presidente Schifani che parla di una grande opportunità per l'isola. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Via libera del CIPES, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, all'accordo per la coesione firmato a fine maggio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ovviamente soddisfatto il governatore siciliano Renato Schifani. La somma complessiva di 5,33 miliardi di euro, al netto di 1,3 miliardi per il ponte sullo stretto, rappresenta un investimento importante per la Sicilia. Alla riunione a Roma, su delega del governatore, ha partecipato l'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò. Questa ingente disponibilità finanziaria dedicata a interventi prioritari concordati tra la regione e il governo nazionale, ha dichiarato il presidente Renato Schifani, ci permetterà di avviare immediatamente opere di grande rilevanza strategica per i cittadini e le imprese siciliane. Si tratta del più significativo accordo in termini finanziari sottoscritto con le regioni e siamo fiduciosi che tali risorse possano contribuire a un reale sviluppo e coesione del nostro territorio. Desidero inoltre sottolineare, ha aggiunto il governatore, l'importanza del lavoro sinergico con Roma, che è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo. La collaborazione costante e proficua tra le nostre istituzioni è la chiave per garantire il successo di questi progetti e per promuovere un futuro di prosperità per la nostra regione. Ringrazio la presidente Meloni e il ministro Fitto e tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato. Siamo pronti a mettere in atto questi interventi con la massima efficacia e trasparenza nella consapevolezza che rappresentano un'opportunità unica per la crescita e il benessere della Sicilia e dei suoi abitanti, ha concluso il presidente Schifani. È diventato impossibile per i tassisti raggiungere Taormina. Questo è lo sfogo di un tassista, sfogo raccolto dal nostro Mauro Romano. Vediamo perché è impossibile raggiungere Taormina. Carmelo Priolo, tassista, è andato a Taormina a accompagnare una cliente. Ma cosa è successo, Priolo? In pratica due giorni fa ho una cliente, una coppia, ottantenni, e mi avevano detto se potevi portarla a Taormina a Porta Catania. Come sempre io ho detto sì, ci siamo messi d'accordo per il prezzo. Arrivando su a Porta Catania il posteggio dei taxi era libero, entro dentro il posteggio dei taxi e mentre apro lo sportello che faccio scendere la signora a Tantenne si è presentata una persona che mi ha detto che là non potevo posteggiare e fare scendere i passeggeri. E io ho detto come mai non si può scendere, qual è il motivo? No, voi non siete autorizzati, dicevi dovete fare scendere i passeggeri giù alla rotonda dove si prende la rotonda per andare su a Castremont. Onestamente sembra una cosa un po' assurda perché alla fine noi portiamo gente su a Taormina e lavoriamo onestamente e andiamo li portiamo, li prendiamo e il passeggero a me mi paga di portarlo appunto dove lo posso portare. E da quest'anno all'improvviso noi non possiamo più portare gente a Porta Catania, la verità è questa. Cosa chiedete all'amministrazione De Luca? Chiediamo perché non era mai successo prima, io ho più di 30 anni di esperienza, vengo da una famiglia di tassisti, il lavoro lo conosco bene, mio figlio fa anche tassisti, siamo tre generazioni di tassisti e ripeto è la prima volta che ci capita una cosa del genere, che non possiamo portare la gente a Taormina, ci stanno impedendo di portare la gente a Taormina infatti, mi dicono di portare il passeggero a 200 metri dal tuo sommetto, io non voglio posteggiare, voglio solamente, no io, tutti quanti noi tassisti di giardini, non è che vogliamo portare i passeggeri a destinazione, non possiamo lasciare i passeggeri a 200 metri dal corso sommetto, anche perché tante volte portavamo gente anziana che non cammina neanche tanto bene. Io ho visto più di una volta che ci sono invece macchine private che scendono persone e nessuno gli dice niente, invece per arrivare ai tassisti abbiamo subito addosso queste persone con queste pettorine scritte cittate da Taormina che ci dicono che ci fanno le foto, ci mandano i verbali a casa, ma non riusciamo a capire perché se siamo tassisti il servizio pubblico. A Catania invece la terza edizione di Pizza Beat Competition, ce ne parla Lucio Di Mauro. Si è svolta la fase delle semifinali in spiaggia della terza edizione di Pizza Beat Competition, la gara per i pizzaioli professionisti ideata da Molino e dalla Giovanna in collaborazione col Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale in Italia nel settore Wine Travel Food. A contendersi l'ambito titolo di Dalla Giovanni Pizza Ambassador 2025, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo sono stati i 27 pizzaioli selezionati attraverso le nove gare regionali effettuate da nord a sud da gennaio a maggio. Il Lido Le Palme di Catania ha ospitato la sfida tra i nove semifinalisti provenienti dalle tre selezioni regionali del sud Italia. Dopo Catania tappa Civitanova Marche, dove gareggeranno i nove semifinalisti del centro Italia. Ultimo appuntamento martedì 23 luglio in Emilia Romagna al Fantini Club di Cervia per la gara tra i nove concorrenti del nord Italia. Ci fermiamo qui a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.